Hai voluto fare un podcast con un cyberpunk? Punk vuol dire anche povertà. Cyber o cypher? Cyber, cypher non mi azzarderei mai. Ah ok, ok, ok. Sei andato a fare popopopopopo? Ho fatto popopopopopo in grande stile ma anche con grande silenzio perché mia figlia già dormiva e era anche abbastanza infastidita dai claxon e dai petardi. Nonostante tutto la partita l'ha voluta guardare anche lei perché sentiva il clima di tensione. Sì diceva papà papà partita partita e ha visto i primi 20 minuti in cui abbiamo succato poi non ha visto la grande Italia del resto della partita. Quindi poi se n'è andata a letto? L'ho messa a letto io sì. E lì l'Italia ha cominciato a giocare bene? Mi stai dicendo che Etera porta sfiga? Sì, particolarmente nella finale sì, però in realtà tutte le partite ha fatto così quindi nei primi 20 minuti era entusiastissima, poi è crollata dal sonno e in certe partite comunque abbiamo giocato bene anche nei primi 20 minuti quindi non c'è un pattern. Ma comunque è un filo conduttore dell'essere genitore, notate? Non c'è un pattern in niente. Appena ti abiti a una cosa quella cambia. È così. Del resto hai voluto le due biciclette umane e adesso ragazzi pedalare. Pedalare, pedalare. Pedalare, come si dice pedalare in dialetto veneto, tu che sei veneto? Eh, ma il cazzo che ti dico. Non lo so. Pedale, secondo me, pedale. Sei veneto con la LMU. Con la LMU. C'è l'amica Laura che è una Veneta originale e chiederò a lei perché mi sa che faccio meglio. No aspetta, no aspetta, Veneta originale. Io sono PSV, sono puro sangue veneto. Cioè tutta la mia famiglia, tutto il mio albero genealogico è un attimo detto. Io poi ho una particolare idiosincrasia con il dialetto veneto perché mio papà mi sgridava in veneto quando ero piccolo e quindi ho odiato il linguaggio fino alla fine. Però ho avuto la strana coincidenza di incontrare una donna, mia moglie, a cui piace il dialetto veneto e quindi devo reimpararlo. Quindi lo usate a letto tipo pesce di nome Wanda col francese? Esattamente, tutte le dirty words durante l'accoppiamento sono in veneto, però io non so niente quindi va malissimo. Non voglio neanche pensarci perché ci tengo a preservare la mia sessualità, guarda. La tua immagine di me. Non voglio sentire. Lancia la sigla va. Mi, 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 mi Grazie a tutti. E benvenuti amici. Ciao Ricchi, benvenuti a tutti. Bitcoin Italia Podcast. Guybrush. Guybrush. Sì. Guybrush. Eh sì, sono proprio io. Tanti auguri. Eccolo là, è proprio oggi, incredibile colpo di scena. Anche per me arrivano i 30 anni. Un numero piramidale decagonale, 38. Lo sapevate. Hai festeggiato? Sei ubriaco? Allora, sto bevendo nei momenti liberi. Ok, mai. Mai. Quindi poco, però conto di poter festeggiare stanotte tra le 3 e le 3 e un quarto. Ai 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 ai, così sembra che arriva il terzo figlio? No, no. È impossibile perché prima di cambiare casa non abbiamo più stanze, quindi non c'è proprio spazio. Io farei un bel nodino, eh? Guarda, è un'operazione che costa pochissimo. Allora, aspetta che cerco su Google. Basectomia. Basectomia, bravo. Basectomia. Ragazzi, ragazzi, nel fare i tanti auguri al nostro Guybrush, il cagionevole pirata, noi vi diamo il benvenuto al 27esimo episodio della terza stagione del Bitcoin Italia Podcast. Il primo podcast a raccontare il mondo del Bitcoin rigorosamente in lingua italiana. Siamo alla nostra terza stagione, come ogni giovedì, sono le 17 e quindi uno nuovo episodio del Bitcoin Italia Podcast è disponibile sul vostro podcast player Guybrush. Ricordiamo, amico mio, subito in apertura che, come chi ci segue sa, è iniziata la straordinaria campagna Svergina anche tu il nostro Lightning Wallet. L'attesissima campagna. L'attesissima campagna. Giusto un paio di settimane fa abbiamo aggiunto al nostro sito www.bip.show, sezione supportaci, la possibilità di farci donazioni Lightning, quindi sul layer 2 di Bitcoin, donazioni istantanee a fee bassissime. E quindi abbiamo lanciato questa grande campagna dove tutti coloro che ci fanno una donazione Lightning nel mese di luglio riceveranno il titolo di sverginatori ufficiali del Bitcoin Italia Podcast. Che non è solo un titolo, ma ci sarà un vero e proprio love badge che riceverete sulla vostra email. Quindi è importantissimo che voi, nel momento in cui fate una donazione Lightning, ci lasciate il vostro indirizzo email. Potete usare o il campo dei commenti direttamente sulla pagina supportaci del nostro sito, oppure semplicemente mandarci un email col numero di transazioni al nostro indirizzo standard, che è show.bip.show. Per rivendicare così facendo il vostro diritto al titolo di sverginatori del Bitcoin Italia Podcast, con relativo badge che arriverà a fine mese, non appena il nostro Yes8 avrà finito di produrlo. Grande Yes8, grandissimo, anzi devo ringraziarlo anche per tutte le burle che si fa. È vulcanico, è vulcanico, yes, è vulcanico. Nel frattempo, Guybrush, questa settimana piace talmente tanto sverginare il Bitcoin Italia Podcast, perché siamo stretti, quindi si gode tanto, piace talmente tanto che ci sgomita per vincere il titolo di sverginatori. Allora, per adesso abbiamo tre canali, quindi non so se si può fare un parallelismo con effettivamente il corpo umano. Ci sono tre canali nel corpo umano. Canali fizzi, intendi? No, canali, canali, ingresso, ma anche di uscita. Guarda, già ci hanno rimproverato su Twitter che siamo sempre più porno, quindi cerchiamo di… e sarà questa roba, sarà la grafica con noi in camicia da notte, tipo Hugh Hefner e Rocco Siffredi, ma sarà l'estate, ma qui l'atmosfera si sta facendo rovente. È dai tempi di, come si chiama, McAfee che parliamo di peni noi, quindi c'è anche una novità. No, no, noi amiamo godere, dobbiamo dirla questa cosa. Ecco. No? Assolutamente. Esatto. Troppo forse. Secondo me tu dovresti godere di più e riprodurti di meno. Ci sono i metodi, siamo nel 2021, la tecnologia ha fatto dei passi di gigante in questo senso. Sono un tipo distratto, il mio pensiero laterale è molto pronunciato, quindi mi distraggo facilmente. Vai, 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 vai. Senti, gli sverginatori di questa settimana a cui va il nostro ringraziamento e che riceveranno il love badge sono Peter Polen, Luca Abate, Andrea Muzio, Free Climber, Pietro di Troia, Walter Maffione, Enrico di Casa Cafè, Stefano Vittorini, Andrea Bertinotti, Emilio Eredax, Alessandro Ghio, Alessandro De Lucca, Giorgio Bresciani, Dorian, Stefano Pistis, Enrico Entotao, Enrico Entotao, che è questo nome un po' difficile da pronunciare, ma che conosciamo bene perché ci tagga sempre su Twitter, abbiamo un intenso dialogo con lui su Twitter. Un sacco di sverginatori ragazzi, grazie mille, grazie a tutti, anche voi riceverete a fine mese il love badge sulla vostra email, per tutti gli altri ragazzi non perdete tempo, sverginateci. Senti Guybrush, iniziamo con l'episodio. Guarda che potrebbero, allora, gli ascoltatori potrebbero tagliare questo pezzettino in cui ti dici sverginateci e utilizzarlo per fare dei deep fake con te che dici sverginateci. Eh vabbè, io firmo la delibera, non c'è nessun problema. Ok, c'è a posto così. Fate pure amici, la creatività contraddistingue gli ascoltatori del Bitcoin Italia Podcast, questo non si discute. Guybrush, partiamo con la puntata perché oggi dobbiamo recuperare il nostro senso civico e il nostro ruolo autenticamente educational perché là nel mondo, nell'etere, dobbiamo lanciare un allarme. Sei pronto? Scamalert! Scamalert! Esatto amici, Scamalert! Scamalert che viene triggerato, caro Guybrush, da una nota dell'FBI. In questa nota l'FBI avverte tutti i possessori di criptovalute, tutti gli exchange e tutti gli operatori finanziari che lavorano nel mondo delle criptovalute perché stando a questo documento di pochi giorni fa appunto rilasciato dal Federal Bureau of Investigation avrebbero informazioni che farebbero pensare che gli hacker di tutto il mondo si stiano sempre più specializzando nelle truffe e nel sottrarre ai propri ignari possessori criptovalute. C'è stato un incremento di hack ai danni di chi possiede criptovalute e l'FBI fa riferimento a una serie di documenti e di indagini che farebbero proprio pensare che ci attende a tutti noi che siamo di questo mondo siamo un po' nel mirino appunto dei pirati informatici, quelli cattivi, quelli neri, non quelli bianchi. Ma noi tanto siamo poveri, Ricci, che cazzo ci vuoi che ci viene? Questo è vero, questo è vero, però sai, oggi siamo poveri, un domani chi lo sa, del resto Guybrush è... Quando Bitcoin varrà mille miliardi di milioni di euro? Allora diciamo Guybrush che possiamo dirlo, anche tu che hai frequentato il mondo degli hacker, cioè più Bitcoin si apprezza in termini proprio di valore, più diventa interessante ed essendo una creatura totalmente digitale è ghiotto per chiunque faccia il pirata informatico. Quindi nel senso, se come tutti quanti noi ci auspichiamo il trend di Bitcoin nel prossimo futuro sarà quello comunque di salire di prezzo e quindi davanti a noi nei prossimi due barra tre anni ci aspettano nuovi all time high su all time high e questo è un problema che sarà sempre più evidente, non credi? Assolutamente sì, abbiamo parlato tante volte anche di come custodire in maniera sicura e distribuita i propri averi, le proprie chiavi private o come anche magari demandare a un terzo, a servizi di terzi, i cosiddetti custodial wallet, ci sono diverse modalità è chiaro che a un certo punto il problema si porrà, cioè di come implementare un modo di custodire le proprie criptovalute e la propria criptovaluta, in generale Bitcoin, senza essere l'obiettivo del famoso French attack cioè l'attacco con la chiave inglese, nel senso il tizio che ti dice se non mi dai la tua chiave privata ti spacco la faccia con la chiave inglese. E caro amico mio, proprio di un simil French attack, voglio parlare a te e voglio parlare anche a tutti i nostri ascoltatori perché è uscito un articolo molto figo sul blog, sul sito di casa che è appunto un servizio di proprietà di cui fa parte anche il nostro amato Jameson Lopp, il mio cypherpunk preferito che quindi ci racconta di un caso sul quale ha lavorato come esperto di sicurezza informatica in prima persona e che è piuttosto peculiare e che vorrei raccontare a te e raccontare a tutti si chiama, la chiamata lui, la tindertrap perché neanche a farlo opposta si parla di sesso e si parla caro Guy Brashti Allora abbiamo appena detto che dobbiamo essere un po' Eh che cosa vuoi che ti dica? Qui saranno tutti i doppi sensi E questo è quello che l'attualità ci impone Va bene, va bene, vai dimmi che non so niente Ne voglio assolutamente parlare Allora praticamente ti racconto la storia di questo malcapitato perché credo che possa essere istruttiva per tutti e al termine di questa storia potremmo forse provare a dare qualche consiglio perché questo è veramente un attacco subdolo e meschino Sostanzialmente l'esca viene lanciata proprio su Tinder la popolare app di incontri tanto diffusa anche qui in Italia Il protagonista, anzi il malcapitato di questa storia è un uomo, ovviamente la cui identità non è stata rivelata che di professione si occupa di fare trading di criptovalute quindi un trader professionista Praticamente questo trader è la vittima e l'aggressore ha usato come esca un profilo di Tinder un profilo di Tinder ovviamente in questo caso femminile dove nelle note la ragazza in questione aveva scritto appassionata di criptovalute con loghino di bitcoin e tutto quanto e questo vuole proprio essere l'esca perché diciamocelo oggi ancora oggi non c'è moltissima gente che ha tra le proprie passioni le criptovalute su una app di incontri figuriamoci Certo tu pensi cavolo finalmente abbiamo un argomento bello interessante di cui parlare vai like esatto esatto match infatti i due matchano e si incontrano pochi giorni dopo in un locale di questa ridente cittadina statunitense cosa succede? Quando incontra la ragazza il nostro malcapitato protagonista si rende conto che la ragazza è leggermente diversa da come sembrava in foto però non si insospettisce più di tanto primo perché questa cosa può succedere e poi perché non è che fosse completamente diversa quindi questa distonia ecco non ha fatto scattare in lui qualche campanello d'allarme i due si conoscono parlano di criptovalute appunto lei conferma la sua passione per le criptovalute insomma come si diceva una volta dopo le prime chiacchere da bar e qualche drink quagliano nel quagliare lui la invita a casa propria a vedere la sua collezione di chiavi private esattamente sali cara che ti faccio venire la mia collezione di franco bolli nft stiamo seri che è un argomento serio i due vanno a casa si cominciano a stropicciarsi un po' a un certo punto lui va in bagno lui va in bagno errore madornale errore madornale con un senso di errore ok errore madornale perché quando torna la ragazza lo sta aspettando e loro vanno avanti a bere da il cocktail che ancora non avevano ultimato a casa la droga dello stupro eh sì l'ultima cosa che il nostro malcapitato si ricorda è un limone duro con la tizia in questione e poi più niente altro si sveglia la mattina tardi solo nel letto e con il telefonino che manca nel ricostruire la cosa lui riesce a ricordare dei piccoli pezzettini e quindi si ricorda che la ragazza con una scusa stupidissima ovvero quella di avere accesso a find my iphone gli ha chiesto di sbloccare il telefono e lui l'ha sbloccato con il pin quindi lei probabilmente ha visto il pin ha visto e memorizzato il pin del telefono no lui gonzo avrà avuto un'erezione fino all'ombelico e quindi no non ci ha neanche pensato ora ovviamente denuncia subito accede subito ai propri ai propri profili sugli exchange e la tizia gli aveva già svuotato tutto fa denuncia gli fanno delle analisi aspetta aspetta hai detto exchange quindi non wallet su blockchain wallet su blockchain quelli che aveva poi io non ti so dire se questa non è che ti tieni tutto sarebbe importante saperlo cioè probabilmente dal telefono ha avuto accesso che ne so a Binance Coinbase aspetta adesso ne parliamo di questa cosa qui prima ti devo dare l'ultimo dettaglio succoso che dopo le indagini dall'esame del sangue scoprono che gli aveva somministrato un mix di benzodiazepine e scolopamina la scolopamina è un forte una forte droga psicotropa presente in natura che si usa da tantissimo e che può mettere KO per più di 24 ore ad alto dosaggio e quindi scolopamina benzodiazepina è componente dell'antidepressivo da banco da farmaccia da banco più che un altro depressivo è un tranquillante tranquillante e là invece la scolopamina cos'è? la scolopalina la scopolamina tra le altre cose mi fa molto ridere che abbiano scelto di usare la scopolamina esatto è una roba sudamericana sì è sudamericana è un alcaloide allucinogeno si trova in natura tra le specie del genere della famosa datura chi andava a ballare negli anni 90 si ricorderà la band ecco dove l'ho già sentito sì 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 ho capito lo stramonio per dire esatto ok ok ho capito quindi roba abbastanza un cocktail molto azzeccato perché ti fa perdere prima perché prima di mandarti KO per ore ti abbassa completamente tutte le difese ti fa perdere ogni tipo di inibizione e quindi tu che già eri un gonzo prima perché volevi una cosa e in testa avevi una cosa soltanto dopo figurati hai capito quindi il target comunque è il cellulare cioè il telefono il target è il cellulare Guybrush perché diciamocelo e quindi magari volevo parlare con te anche così magari ci dai qualche consiglio di cyber security no questa vicenda assurda mi ha fatto riflettere su alcune cose la combo cellulare e pin del cellulare Guybrush è letale cioè hai perso tutto perché è praticamente un sim swap ma ancora meglio di un sim swap perché hai accesso a tutte le email quindi tutti gli account di cui non hai password puoi fare forgot my però dipende da quanto dopo ti svegli tu perché se tu ti svegli dopo un'ora e sei riuscito a capire no brother quando vai secco per un cocktail così ti svegli dopo dieci ore nella migliore delle ipotesi dieci ore sono sufficienti ok se noi oggi perdiamo il cellulare col nostro pin è la fine cioè chi volesse chi ne entra in possesso con intenzioni malevole ha letteralmente a disposizione tutto può sminchiare ogni tuo factor autentication dipende dal livello di paranoia guarda perché io per esempio ho tre telefoni identici nei quali conservo diverse cose quello che porto in giro non ha niente cioè se lo perdo non succede un cazzo capito certo poi dopo c'è anche il modo di conservare il proprio cioè non usare il pino usare qualche per esempio gli iphone hanno l'impronta digitale però poi mi rendo ancora se sei secco l'impronta digitale no infatti se sei secco ti prendono il dito mentre sei svenuto e te lo attaccano però c'è da dire che l'impronta digitale non sblocca proprio tutto a volte ti chiede il pin se non lo sai esatto però ad esempio l'80% dei wallet di criptovalute vanno ormai o con l'impronta digitale o con il riconoscimento facciale allora un metodo interessante allora per quanto riguarda gli exchange c'è poco da fare cioè se tu vuoi portarti dietro l'informazione in tempo reale la possibilità di questo era un trader quindi molto probabilmente il trader è uno di quelli che se esce anche se esce avere un drink vuole comunque poter fare close position open position ok poi magari non lo fa però per suo formamenti lo vuole poter fare allora quelli lì esattamente come noi diciamo sempre not your keys neuter coin nel senso che se tu sai che le tue criptovalute stanno a livello di exchange a parte un hack fisico come questo qua che mi hai appena raccontato potrebbe esserci anche un hack come ne abbiamo visti tanti quindi tu sai già che c'è un rischio di perdere le tue criptovalute però per quanto riguarda effettivamente i tuoi averi su un wallet su blockchain per quelli c'è ci sono 10.000 modi per evitare un attacco del genere per esempio potresti avere un wallet read only cioè potresti dire installarti sul telefono un wallet che fa solo lettura quindi puoi solo controllare il tuo bilancio senza poter fare transazioni si posto che quello lo puoi fare anche tranquillamente da un blockchain explorer cioè non è neanche necessario averlo no perché comunque per farlo da un blockchain explorer dovresti avere tutto il set di indirizzi che derivano dal tuo wallet quindi tu però esiste la chiave xpub che è una una chiave pubblica dalla quale si possono derivare tutte le chiavi pubbliche con il percorso di derivazione con i quali tu puoi controllare il bilancio totale di un tuo wallet per esempio e questo potrebbe essere un modo Electrum per esempio lo supporta però sì mi rendo conto che per un trader e per gente che utilizza gli exchange nell'ordine temporale del minuto questa cosa non si può fare c'è da dire anche che gli exchange stessi tipo Binance mi viene a memoria implementa diversi tipi di two factor autentication two three factor autentication anche per dire tu non ti loghi per più di mezz'ora ti chiedono un two factor autentication sì che però è che però è un codice che ti arriva sulla mail e un codice che ti arriva sui sms se hai il cellulare hai tutto eh allora sì è chiaro che bisogna bisogna erudirsi un po' sui metodi intanto bisogna capire la diversificazione dei device cioè tu non puoi avere lo stesso tipo di autenticazione sullo stesso device quindi tutto sul telefono è ovvio che se perdi il telefono sei sei imbraghe di tela però tanto va il personaggio che mi descrivi è un trader che si è fatto un po' abbindolare dalla gnocca come si può come si può dire e che quindi lo configuro come persona abbastanza compulsivo quindi che vuole poter operare in maniera diretta senza troppi sbattimenti sui suoi suoi conti live ecco questa compulsività male si configura con il concetto di sicurezza cioè tu vuoi avere accesso diretto alla tua risorsa più diretto e più veloce lo vuoi avere meno sicuro sarà ok quindi ci deve essere un compromesso a un certo punto però mi viene da pensare che se non è un completo idiota questo qui ha perso solo quello che aveva esposto sugli exchange quindi non il suo capitale totale però è un è un è un precedente interessante fermo restando che comunque le rapine le truffe con dollari e euro si consumano quotidianamente in numeri esorbitanti quindi stiamo parlando non stiamo parlando di una risorsa che è prona alla truffa ma no esattamente siccome è la novità siccome è la novità allora noi siamo abituati a sentirti la notizia del tizio rapinato nel sottopassaggio della metropolitana ok e questo non fa notizia gli rubano il portafogli e lo malmenano ciao e questo non fa notizia invece la novità è truffa su tinder ti fotono le criptovalute e quindi fa notizia è chiaro che ci sarà sempre un'esposizione a un certo tipo di rischio nel campo della cyber security non esiste un sistema sicuro 100% e totalmente affidabile esistono diversi compromessi accettabili o meno e dipendono dal tuo stile di vita esatto Guybrush e partendo da questi però possiamo una volta lanciato del nostro scam alert dare qualche consiglio per cercare di mitigare il rischio un consiglio è quello che abbiamo appena dato raga il vostro telefonino il vostro smartphone è fondamentale è il centro della vostra vita quindi mi raccomando attenzione innanzitutto pina 6 cifre non pina 4 cifre perché significa proprio semplificare la vita a un eventuale aggressore sul vostro telefonino se avete dei wallet mi raccomando teneteci solo poche cripto quelle che uscire il corrispettivo dei soldi fiat con cui uscireste esatto a ballare il sabato sera il resto lo abbiamo detto tante volte o su un paper wallet o su un hardware wallet ma niente salvato sul telefono ragazzi non ti porteresti mai il tuo conto in banca capito al bar mentre esci così come non terresti mai il pin del tuo bancomat nel portafoglio quindi conosco gente che lo fa attenzione e lo so proprio per questo ci tengo a ripeterlo non salvate le vostre private keys le vostre 12 o 24 parole sul vostro telefono mai online e mai con voi comunque ponetevi la domanda se io dopo esco e dovessi perdere tutto quello che ho addosso cosa succede sono fottuto sì devo risolvere il problema no è un bel problema però no vabbè sti cazzi allora ok questo è un compromesso accettabile per poter correre questo rischio questo è il modo in cui si affrontano i problemi in termini di sicurezza c'è un altro consiglio in più che non è male secondo me createvi un'email ad hoc per il vostro e2factor authentication e quelle email non tenete la loggata nel vostro client di posta elettronica sul telefonino ma controllatela e raggiungetela via desktop inserendo manualmente la password ogni volta anche sì anche sì no usate un password oppure usate un password manager che tante versioni mobile sono molto performanti tipo 1password e LastPass che costano poco 5 euro al mese esatto e fanno e hanno questa funzione è chiaro che con il branch attack cioè ti pesto fino a che tu mi dici la tua master key potrebbe non funzionare però anche lì ci sono delle tecniche ci sono delle tecniche anche in questo caso oppure fate come faccio io cioè portatevi dietro un telefono disposable cioè che se perdete non succede un cazzo è tutto read only non potete fare niente di operativo realmente perché tanto io quando esco non è che devo operare o fare cose significative e ho una copia fisica protetta in un altro punto quindi è esattamente quello che si può fare anche con i documenti io per esempio uso questa tecnica con i documenti dopo aver ripersi diecimila volte e aver fatto tutta la trafila burocratica le successive diecimila volte ho deciso di girare non con la copia vera dei miei documenti ma ho scoperto che una fotocopia leggibile perfettamente riproducibile di un documento ha valore legale e quindi io giro con la copia dei miei documenti in modo che se perdo il portafogli non devo rifare tutti i documenti da capo ecco questo è per esempio un compromesso di sicurezza un altro buon consiglio Guybrush e noi in questo lo centriamo in pieno non è necessario pubblicizzare al mondo che lavorate con le criptovalute o che detenete criptovalute cioè se vi vengono idee malsane tipo fare un podcast sui bitcoin sappiate che un pochino vi state esponendo no? sì allora io ti devo dirti sinceramente che sono abbastanza mi sento abbastanza sicuro perché ma anch'io siamo due poveracci esatto ma ci diamo cifre poco significative mi rendo conto di non essere una balena oggi però tra due anni tra cinque tra dieci ascolta se bitcoin va dove pensiamo che vada non saremo mica soli come no certo 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 siamo gli unici che si saranno arricchiti con questi pochi satoshi no no certo un altro buon consiglio che vi posso dare più aderente all'attacco della tinder app ragazzi è inutile che voi pensiate di avere trovato il miracolo se conoscete una che è appassionata di bitcoin in italia le donne appassionate di bitcoin sono circa una dozzina le conosco tutte quindi mandatemi una foto su twitter che vi dico se è legittima esatto c'è anche questo questo fatto quindi sospetto al cento se trovi una su tinder esatto a cui piacciono le criptovalute non esistono le donne ragazzi è brutto questo questo stereotipo però purtroppo al momento purtroppo ho delle mie teorie abbastanza impopolari che non posso dire in questa sede ok interessante però dovremmo necessariamente approfondirle forse nelle puntate stronze estive forse nelle puntate stronze estive oppure ce la teniamo per la puntata VIP di Natale anche vedremo ragazzi comunque c'è poco da fare il concetto che noi volevamo passare è che le criptovalute sono preziose più Bitcoin prenderà valore più sarete saremo probabilmente oggetto di sguardi malevoli la sicurezza in informatica non è mai troppa quindi valutate con attenzione come proteggete le vostre chiavi che cosa tenete sui vostri dispositivi acquistate se potete dei dispositivi che garantiscano un buon livello di sicurezza che si possano bloccare da remoto insomma ormai la tecnologia offre tante possibilità per però occorre farci attenzione Guybrush perché queste cose sono successe oggi e purtroppo ci avvisa anche l'FBI succederanno sempre di più passando da un argomento all'altro Guybrush ma restando sempre in tema governativo volevo un commento veloce da te su una notizia che è un'indiscrezione è un'indiscrezione che è stata condivisa su alcuni blog da Marty Bent e che si basa su alcune dichiarazioni di membri del Parlamento europeo noi sappiamo perché l'abbiamo raccontato più di una volta nelle ultime settimane nelle ultimi episodi che la commissione europea sta lavorando al cosiddetto MICA Markets in Cryptoasset che è un framework normativo che appunto servirà quando sarà pronto se sarà approvato a stabilire tutta una serie di regole per il mondo delle criptovalute che andranno a impattare tutti i paesi membri dell'Unione europea si parla all'interno di questi MICA di tante cose ma quello su cui mica come il cantante credo che sia con la K questo è mica con la C ah ok no se non era bello dai scusa ciao grazie grazie comunque la notizia qui qual è la notizia è che alcuni membri dell'Unione europea hanno rilasciato delle dichiarazioni che farebbero pensare ragazzi perché il condizionale è d'obbligo in questo caso come ogni tanto ci capita stiamo commentando qualcosa di cui non c'è certezza documentale quindi dovremmo seguire il dibattito e capire esattamente che cosa succede però possiamo dire perché sono state rilasciate delle interviste che tutto farebbe pensare che alcuni membri del Parlamento europeo soprattutto appartenenti al movimento politico dei verdi stanno facendo pressione sull'Unione europea affinché nel mica vengano inseriti anche i cosiddetti ESG che cos'è un ESG Environmental and Social Governance cioè sono delle metriche che si usano nelle aziende per valutare l'impatto ambientale di servizi o di prodotti e questo significa che c'è tutta una parte del Parlamento europeo che sta facendo lobbying e si auspica e auspica che la proof of work venga bandita dall'Unione europea in questo senso abbiamo delle dichiarazioni ad esempio del socialista Eero Eina Luoma non lo so deve essere svedese o finlandese difficilissimo da pronunciare che in un'intervista ad ENDS dice letteralmente l'Unione europea non può permettersi di legittimare le criptovalute se vengono prodotte in una maniera che è assolutamente negativa per l'ambiente e quindi noi proponiamo uno stop all'uso della proof of work magari in favore di tecnologie alternative più ecosostenibili come la proof of stake no ma come è proprio così caro mio ha proprio citato proof of work versus proof of stake in questo caso sì allora proof of stake è il dizionario e la semantica che già conoscono i nostri assolutamente infatti io commenterei direttamente cioè lo vedi rischioso lo vedi probabile allora a parte il fatto che si basa su tutta questa notizia e il resto del corpo poi troverete il link nelle note andate ad approfondirlo si basa su delle robe cioè per esempio loro in commissione europea hanno dichiarato che il mining è in gran parte proveniente da l'energia per il mining è per la stragrande maggioranza proveniente da risorse fossili e noi sappiamo questo non essere vero no però diciamocelo una mossa di questo tipo non c'entra niente con l'ambiente è una scusa per attaccare bitcoin sì assolutamente sì ma è come lo sono state tutte le argomentazioni sul terrorismo sulla droga e tutte sono abbastanza deboli ormai perché sono talmente tanto percorse mi rendo conto che possono avere effetto solo su chi non ha mai sentito parlare di bitcoin o di criptovalute non si è mai interessato di niente allora può vedere il titolo di giornale dice unione europea bandisce consume la solita la solita menata che abbiamo visto già sono dieci anni che la vediamo quindi non è una grande novità però la parte nuova diciamo è che a parte cavalcare il greenwashing così come si chiama cioè di denigrare una tecnologia tacciandola di anti-ecologico anti-ecologismo o di essere non conforme alle nuove politiche che stiamo tutti cercando di adottare per salvare il pianeta terra dagli umani a me stupisce il fatto che ci sia un piccolo endorsement nei confronti di proof of stake cioè nel senso che vuol dire che secondo me a questa persona qualcuno gliel'ha detto di farlo non può essere che un politico sappia coscientemente qual è la differenza tra proof of work e proof of stake in termini di a consumo energetico b impatto sul sul sistema finanziario e socio-politico quindi probabilmente qualcuno dietro c'è e mi viene in mente qualcuno che abbia interesse nel abbia capito che non è possibile la tecnologia proof of work e della tecnologia che propone bitcoin non è fermabile come abbiamo già visto altri fenomeni peer-to-peer come torrent o la diffusione degli mp3 o la diffusione dei film insomma tutte quelle tecnologie che hanno permesso il file sharing distribuito sono diciamo mitigabili tamponabili fino a un certo punto ma non sono realmente censurabili ecco allora mi viene in mente che ci sia qualcuno che abbia capito questa cosa e che stia cercando di rallentare la transizione verso questa proposta che fa bitcoin con proof of stake quindi proof of stake probabilmente nei prossimi anni assumerà il ruolo di argine sacrificabile come dire proposta come dire diciamo allora proponiamo proof of stake invece di proof of work perché proof of work è cattiva brutta e consuma tanta energia e inquina mentre proof of stake no perché è più efficiente in termini energetici ma sappiamo perfettamente che proof of stake si rifà perfettamente al modello finanziario che già conosciamo che abbiamo visto di quale abbiamo già decantato in lungo e in largo i difetti certo quindi è una come dire misura d'emergenza sono divertito e impaurito da questa da questa politica impaurito anche ecco sì non me l'aspettavo perché non mi aspettavo questi termini a livello a livello politico ok non mi aspettavo a livello politico proof of stake cioè anche perché diciamoci la verità i tuoi interlocutori cioè gli elettori cittadini che cazzo ne sanno hanno certo ma no ma Gaibra secondo me qua il tema è diverso secondo me qua si tratta di capire se per attaccare bitcoin verrà usata la scusa del consumo energetico e quindi se l'attacco più che a bitcoin a questo punto sarà al consenso di bitcoin e quindi alla proof of work e questo è interessante da vedere perché se l'unione europea dovesse dare un giro di vite allora diciamo facciamo un paio di ragionamenti non è che la roba sia un danno incredibile cioè non è che l'unione europea sia una sia una federazione che attira molto mining perché non è che proprio in unione europea ci siano delle condizioni energetiche particolarmente favorevoli infatti dopo vedremo che contiamo poco un cazzo purtroppo è purtroppo un bundle mining in unione europea rispetto a quello che c'è stato in cina a bitcoin gli fa un baffo ci saranno sempre paesi che per i paesi che fanno che fanno profitti sul mining penso agli Stati Uniti quindi questa decisione sarà molto meno facile da prendere c'è poi tutto il resto del mondo che è la stragrande maggioranza del mondo che può avvantaggiarsi dal mining di bitcoin e penso al secondo e al terzo mondo quindi quelli sono la nostra forza sarà il secondo e il terzo mondo a fare a costituire la trincea invalicabile grazie a quale al primo mondo finanziariamente corrotto verrà impedito di attaccare bitcoin ed eventualmente distruggere perché io penso che l'adoption nel secondo e il terzo mondo sarà la soglia per il quale bitcoin sarà il classico too big to fail cioè dove il primo mondo potrà guardarsi dietro e dire ok non possiamo farci un cazzo ragazzi dobbiamo per forza andare di pari passo a questa rivoluzione finanziaria questa secondo me sarà è una la classica forse la prima volta che si realizza la classica rivoluzione dal basso esatto bitcoin rende possibile questa cosa comunque la settimana prossima verranno resi pubblici dall'unione europea tutti gli emendamenti presentati dai parlamentari al mica quindi vedremo anche se ci sono stati emendamenti al testo in questo senso e quanti sono stati e poi e quindi potremo parlare con sottomano un testo più definito e poi si tratterà di votare e anche lì vedremo che cosa succede comunque io non è che possa dire panico mi sembra una roba interessante da portare qui ai microfoni del bitcoin italia podcast perché rappresenta un pattern dopo la cina l'unione europea come se il legislatore stesse trovando qual è la freccia più accuminata al proprio arco adesso ti dico perché mi fa paura a me proof of stake in termini politici perché è la classica buzzword cioè la parola chiave che viene utilizzata per riproporti la stessa cagata che avevamo prima adesso mi sono sempre sono sempre stato incuriosito dal mondo ethereum ethereum 2.0 l'abbiamo parlato la migrazione london fork berlin hard fork eccetera eccetera però se arriviamo lì uniamo due puntini esistono ban e contrapposizioni politiche governative tutte verso bitcoin di ethereum nessuno mai dice mai un cazzo si parla sempre di ban verso le criptovalute ma alla fine quello che mandano via dai territorio è sempre bitcoin e quando ti dicono non puoi fare l'exchange perché tu non puoi fare gli scambi in bitcoin quindi quello è quindi se arriva adesso proof of stake anche nei termini politici allora mi viene da dire e allora quel lato lì sta andando a farsi benedire come si suol dire allora proof of stake è chiaro che verrà cavalcato come ultima spiaggia per rivenderci la stessa cagata che avevamo anche prima certo ed è un peccato perché comunque io non penso e non sono categorico non penso che l'unico algoritmo di consenso possibilmente decentralizzabile sia proof of work magari tra 150 anni 50 anni arriva un nuovo Satoshi Nakamoto 2 che ci propone una cosa che nessuno ha mai visto esattamente come fino al 2008 nessuno aveva mai pensato a proof of work per risolvere il problema dei generali bizantini ok quindi mi aspetto che possa succedere ancora è un peccato vedere che venga cavalcato politicamente con la solita retorica hollywoodiana una tecnologia che sai che io sono un fan più che del discorso politico più che della tecnologia quindi per me è sempre un peccato questo vabbè lo so questo affare mio lo racconteremo amico mio lo racconteremo a questi microfoni i microfoni del bitcoin italia podcast che da tre anni a questa parte offrono settimanalmente un'ora abbondante di cripto divulgazione in maniera totalmente gratuita anzi questo è un falso ragazzi noi vi abbiamo sempre detto noi siamo e saremo sempre gratis ma sai che c'è non è accurato perché noi non siamo gratis noi ogni settimana usciamo disponibili a tutti coloro che ci vogliono ascoltare solo ed unicamente grazie a coloro che decidono di supportare economicamente il bitcoin italia podcast quindi se voi sono mesi settimane anni che ci ascoltate gratuitamente non dovete dire grazie a noi ma dovete dire grazie a tutti coloro che hanno capito che per rimanere gratuito il bitcoin italia podcast deve essere supportato e quindi ci supportano con una donazione collegandosi al sito www.bip.show sezione supportaci e da lì scelgono il modo per supportarci il loro preferito scelgono la cifra con cui supportarci che può essere bassissima o può essere anche molto alta e scelgono con che frequenza supportarci che può essere tutti i mesi o una volta all'anno noi non poniamo limiti alla provvidenza dei nostri biper li lasciamo liberi di decidere loro come vogliono supportarci la cosa fondamentale è che se ci ascoltate ogni settimana se capite l'importanza del nostro lavoro se siamo diventati delle voci amiche dovete assolutamente necessariamente obbligatoriamente supportarci ragazzi mi raccomando perché solo così avete la garanzia ferrea che io e Guybrush saremo sempre qui a registrare delle puntate che speriamo saranno sempre più interessanti e più belle quindi mi raccomando ragazzi tutti a sfondo sessuale esattamente esattamente inoltre Guybrush ogni settimana noi mettiamo in paglio il titolo di mecenate il mecenate è il top donor colui che ci ha dimostrato lo sostegno più cospicuo e questa settimana il nostro mecenate è Ntotao che quindi è sia sverginatore che mecenate bomba atomica sverginatore mecenate lo sverginatore è una categoria di you porn Ntotao grazie mille grazie di cuore per il grande supporto che ci hai voluto dare ringraziamo però tutti coloro anche quelli che ci donano un euro ragazzi davvero non è importante quanto l'importante è che voi lo facciate Guybrush anzi Ntotao grazie mille sei lo sverginatore dell'episodio 27 sei il mecenate dell'episodio 27 della terza stagione per te l'onore di vedere il tuo nick scolpito nel travertino digitale delle note dell'episodio del Bitcoin Italia podcast Guybrush parentesi tecnica oggi parliamo oggi facciamo un po' di gossip gossip esatto allora la mia approfondimento tecnico di oggi nasce dalle schiere di persone che mi fermano quando esco di casa e mi chiedono ma senti Guybrush ma il problema della scalabilità è veramente risolto con light network schiere di persone io immagino che ci siano problemi di viabilità fuori da casa tua problemi di viabilità io devo fare è uno dei problemi più sentiti dalla popolazione devo passare fatemi passare comunque adesso ho detto risponderò in puntata adesso rispondo a questa domanda che mi hanno fatto ed è no non si risolvono i problemi di scalabilità in toto ma si pongono nuovi problemi di scalabilità allora parliamo di gossip gossip è quello che leggiamo di Belen Rodriguez che ha appena avuto un nuovo figlio mi pare da un parrucchiere di genovese ma anche il modo in cui dei componenti di un network di una rete si scambiano un'informazione noi sappiamo che i nodi di un di una rete come per esempio è quella di incredibilmente bitcoin si debbano scambiare informazioni a livello uno che sono i blocchi i blocchi minati o le transazioni o le verifiche di una transazione o le conferme di un della veridicità di quello che propone un miner a livello 2 cioè l'itin network ci si scambia un altro tipo di informazione è bene sapere che quello che noi chiamiamo peer to peer quello che mediaticamente viene descritto come peer to peer segue un set di regole di protocolli che bene o male ha tanti punti in comune e tanti studi sono stati fatti in merito ed è bello interessarsi a questo argomento perché si pesca tanto da un argomento che è all'ordine del giorno anche per noi da circa un anno e poco più che è la pandemia globale ovvero come il modo in cui i nodi all'interno di una rete peer to peer per esempio l'itin network si scambiano un'informazione ha molto a che fare con il modo in cui un virus si espande all'interno di una popolazione di esseri biologici per esempio gli umani questo modo di descrivere lo scambiarsi informazioni può essere chiamato anche gossip protocol cioè il modo in cui si scambiano le informazioni per esempio i pettegolezzi i rumori di corridoio il famoso telefono senza fili si dice una cosa si vede che cosa succede quando si butta l'informazione all'interno di un network e se arriva una risposta si vede quanto è conforme la risposta con il messaggio di ingresso di input tutti questi parametri sono studiati in lungo in largo e hanno a che vedere con la scalabilità il problema principale di lightning network per il quale io vi sto ponendo questo pippone tecnologico è lightning network davvero risolve il problema della scalabilità verticale nei confronti di bitcoin cioè noi sappiamo che da sono dieci anni che si parla di come fare in modo che bitcoin fichissimo decentralizzato immutabile e trasparente possa però essere utilizzato da miliardi di persone contemporaneamente si è capito che no si può però fare in modo che uno strato superiore di tecnologie e protocolli possa ereditare le proprietà principali di bitcoin su quali noi possiamo fare affidamento senza cedere la nostra fiducia finanziaria a un intermediario umano che sappiamo essere molto 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 fallace ma possiamo fidarci molto invece degli algoritmi di proof of work della matematica della matematica l'IT network in realtà però ha un altro problema ovvero sappiamo perfettamente che perché voi avete ascoltato gli episodi della terza gli iniziali episodi della terza stagione che l'elemento principale dell'IT network è il canale di pagamento cioè quel legame che si crea tra un nodo e l'altro nella quale si stabilisce che c'è un bilancio quindi un massimo spendibile tra il nodo A e il nodo B ma possiamo anche implementare un sistema di instradamento della transazione quindi se tra il nodo A e il nodo B esiste un collegamento un bilancio spendibile e tra il nodo B e il nodo C altrettanto allora A può pagare una determinata cifra a C tramite un algoritmo che si chiama pathfinding cioè ricerca di un percorso questo pathfinding dipende in maniera viscerale da il cosiddetto gossip protocol cioè il modo in cui i nodi continuano a scambiarsi informazioni rispetto ai canali che hanno disponibili perché perché quando io eseguo un pagamento per esempio vado al bar e pago il caffè voglio che la mia transazione sia autenticabile e autenticata nel giro di 1-10 secondi l'esperienza che già tutti viviamo con il post esatto a meno di il guardi non prende lo scontrino finto o la macchinetta rotta mi si è smagnetizzata la carta mi si è rotto il chip oggi non va è proprio tutto il giorno che non va ecco a meno di questi inghippi classici comunque noi vogliamo che l'esperienza sia quella di prendo il caffè vado alla cassa pago bips esco per fare questo tra il mio wallet sul telefono e il wallet del lightning del commerciante ci deve essere un percorso ottimale ma questo percorso ottimale deve essere precalcolato tramite un protocollo di scambio di informazioni che ha che vedere proprio con il modo in cui si espandono i virus addirittura il modello si chiama SIR che è l'acronimo di adesso perdonate l'inglese d'altronde questo è il bitcoin italia esatto vai vai si maccheronico non ti vergognare di nulla allora SIR S-I-R susceptible to infection infected or removed due to death or immunity cioè suscettibile all'infezione quindi infettabile quindi parliamo di un nodo che ancora non ha ricevuto l'informazione nel caso pandemico è il virus nel caso di lightning network è la transazione infettato cioè lo stato del nodo è ho ricevuto la transazione conosco l'informazione quindi so che cosa devo processare removed due to death or immunity cioè nel caso della pandemia morto o immune nel caso delle transazioni lightning come dire ho riconosciuto la veridicità della transazione appena avvenuta quindi sono tornato allo stato iniziale ecco per capire qual è il percorso ottimale tra me e chi deve ricevere la transazione il nodo deve continuamente aggiornare la sua mappa del network tramite il gossip protocol il gossip protocol si basa su diversi studi diversi paper che se volete posso anche linkarvi ma sono noiosissimi ma sai che abbiamo chi ama annoiarsi c'è una piccola setta che vuole annoiarsi quindi li linkerò ma la parte interessante è che gli sviluppatori di lightning stanno cercando di ottimizzare lo rispetto ottimizzare questo algoritmo di pathfinding e di gossip protocol rispetto a un principio fondamentale cioè la privacy ok ovvero non dobbiamo riuscire a ottimizzare questo processo mantenendo privato il bilancio tra i canali allora per per capire questa cosa è importante ricordarsi come funziona un canale lightning ovvero un canale lightning si basa su una transazione on chain quindi livello 1 nella quale qualcuno decide di dire io firmo insieme a te nodo B una transazione on chain quindi su blockchain principale chiamiamolo così nella quale metto a disposizione che ne so un bitcoin firmato anche da te quindi per sbloccarlo ho bisogno di trattare le transazioni con te quindi un canale di comunicazione tra me e te che ha un bilancio massimo però che è quello che io decido di scrivere on chain quindi un bitcoin se tu lato tuo canale B hai deciso di fare la stessa cosa con qualcun altro lato C chiamiamolo come si chiama Carl perché di solito gli esempi sono Alice Bob Carl tu però hai deciso di aprire un canale di mezzo bitcoin ok quindi ipotizziamo che io voglio mandare un pagamento a Carl cioè io Alice a Carl ma non ho un collegamento diretto con Carl l'algoritmo di pathfinding deve necessariamente passare da Bob cioè la persona con il quale ho aperto un canale da un bitcoin io adesso voglio pagare 0,6 bitcoin a Carl purtroppo il wallet mi dirà dito medio perché il bilancio del canale che unisce me con Carl non è sufficiente ma questa informazione non è pubblica certo ok quindi l'efficienza del sistema dipende da quanti tentativi devo fare per trovare il percorso ottimale ovvero essendo che il bilancio non è pubblico per dei canali per proteggere la privacy perché non voglio farmi i cazzi dei light in no di tutto il mondo e sapere quanti soldi hanno perché è protetta questa cosa dagli sviluppatori allora l'algoritmo al momento attuale è li provo tutti e finiranno che non trovo quello che funziona tra i meno tra i quelli che costano meno ovvero ogni canale tra le sue tra i suoi parametri ha anche un costo di fee cioè la mia transazione io per inoltrare la tua transazione cioè Bob può dire io Alice per inoltrare la tua transazione verso Carl ti faccio pagare un Satoshi ma magari interviene lato all'ultimo in estremis Derek cioè D che dice io cara Alice io ti faccio pagare 0,1 Satoshi per la tua transazione quindi sono più conveniente esatto è più conveniente allora se il bilancio è rispettato cioè se tu hai un canale con Carl che è al massimo di quello che voglio transare allora il mio wallet sceglierà il canale verso Derek ok ma se nessuno dei due canali supporta un bilancio consono a quello che io voglio transare la mia transazione viene negata ed è completamente revertibile per il fatto che questa transazione è incapsulata nel famoso Onion protocol e questo ve l'ho già spiegato in qualche quando abbiamo descritto bene come funziona Lightning quindi il problema della scalabilità dove arriva arriva per il fatto che come facciamo a garantire che al momento attuale abbiamo l'utilizzo di Lightning Network verso quanti sono 10.000 nodi quindi adesso con El Salvador magari c'è una penetrazione maggiore ma parliamo di milioni ma quando vogliamo arrivare a miliardi di persone che utilizzano Lightning Network come facciamo a fare in modo che questo algoritmo sia efficiente e che mantenga la sua fulmineità che è proprio del nome cioè che io non debba quando faccio la transazione aspettare che il wallet provi n.000 percorsi fino a che trova quello col bilancio giusto per la mia transazione ci si aspetta ci sono diversi studi diversi paper diversi proposte BIP e via dicendo ci si aspetta comunque che essendo Lightning Network più prono all'utilizzo diciamo consumer to consumer quindi transazioni piccole il bilancio sia più o meno sempre disponibile quindi parliamo di Lightning Network esatto capite che se tutti pagano continuamente il caffè ci si aspetta che il canale da minimo un euro ci sia sempre almeno disponibile nell'arco di qualche secondo ma essendo molto zelanti gli sviluppatori di Bitcoin si stanno studiando nuove tecnologie che hanno a che fare anche col mondo della bionica cioè ci si ispira al comportamento dei virus degli animali delle formiche e di come si espande un'informazione in modo che sia coerente con quello che ci si aspetta dalla risposta di un sistema e questo è interessante perché riproponiamo lo stesso problema di cui abbiamo già parlato tante volte quando per esempio svisceravamo il problema dei generali bizantini cioè di come si fa avere la garanzia che un'informazione sia vera all'interno di un network di persone in cui è possibile che ci siano degli interpreti malevoli salendo di livello ci si pone più o meno lo stesso problema su una scala diversa ci si aspetta che sopra l'IT network si possa creare un cosiddetto livello 3 di smart contract il vero diciamo significato che daremo a smart contract purtroppo a un certo punto ahimè mi dispiacerà averti fatto Ethereum tutto questo tempo ma vincerà il livello 3 perché è molto più solido molto più stabile molto implementato molto meglio e ci troveremo ad avere a che fare con e qua si parla di fantascienza con problemi di scalabilità interplanetaria ok per quanto riguarda questa tecnologia che è ancora però nella testa è nei file di testo dei cypherpunk quindi la risposta quindi riassumo esatto l'IT network non risolve definitivamente il problema della scalabilità ma lo sposta e come dire scala il problema della scalabilità cioè lo sposta a un punto in cui ci si aspetta che arrivi quando saremo un miliardo esattamente Guybrush diciamo anche una cosa in maniera molto netta e molto chiara non è che in informatica il problema della scalabilità si risolva mai perché la scalabilità non finisce mai cioè oggi internet sta continuando a scalare ogni tanto ha dei down perché deve ancora scalare no? cioè si arriva sempre a un collo di bottiglia quindi layer dopo layer la scalabilità deve aumentare di concerto con l'utilizzo e la base utenti non è che si raggiunge mai un plateau tecnologico perché no assolutamente no in tutti i sistemi dinamici esiste un equilibrio e qualcosa che rompe l'equilibrio qualcosa che rompe l'equilibrio nella maggior parte dei casi e per la nostra esperienza di esseri umani è la quantità cioè quante persone utilizzano un determinato sistema lo vediamo anche proprio con la pandemia cioè noi ci poniamo il problema della pandemia e di quanto sia grave o meno questa infezione per come per la sua pressione nel sistema che noi avevamo dimensionato per quando non conoscevamo la pandemia cioè noi avevamo dimensionato il sistema sanitario gli ospedali e le stanze che avevamo per ricevere i pazienti perché ne so epidemie di una determinata malattia questa ne pone di più e quindi diciamo siamo in crisi perché non avevamo scalato il sistema sanitario per un evento di questo tipo ecco questo è il problema della scalabilità ma meglio così in ingegneria in ingegneria è il come dire è l'abc è il problema principale dell'ingegnere quello di scalare il prototipo in modo che lo possano utilizzare tutti meglio così amico mio meglio così perché così facendo avremo un continuo susseguirsi di nuove idee e nuove soluzioni tecnologiche per consentire questa scalabilità graduale e questo significa che avremo ancora tanti 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 contenuti da raccontare settimana dopo settimana stagione dopo stagione qui al Bitcoin Italia Podcast siamo in chiusura di episodio amici ricordiamo che se avete domande perplessità suggerimenti ci potete scrivere alla nostra mail ufficiale che è show chiocciolabip.show visitate il nostro sito www.bip.show perché lì sopra oltre alla sezione supportaci potete ascoltare i nostri podcast c'è una sezione dedicata allo shopping con tutti i prodotti da noi consigliati insomma andate a darci un'occhiata perché il sito si sta arricchendo sempre di più inoltre la nostra vita social si consuma tutta tra le mura di Jack Dorsey di Casa Dorsey su Twitter il nostro handle è bip underscore show se cercateci seguiteci seguite i nostri tweet chiacchierate con noi e condividete i contenuti del Bitcoin Italia Podcast a tutta la vostra rete di amici se avete tempo utilizzate qualche secondo del vostro tempo se ci ascoltate su Apple Podcast per lasciarci una recensione anche quella ci aiuta tantissimo condividere il nostro show è il modo migliore per aiutarci a crescere e fare arrivare il Bitcoin Italia Podcast sempre a più orecchie sempre ad informare ed incuriosire più cervelli ci amo poi anche noi personalmente fisicamente se ci volete scrivere privatamente sempre su Twitter il mio handle è rikisix rikki6 in numero i x x mentre il tuo il mio è Guy Brascino Guy Brascino Guy Brascino anche per questo ventisettesimo episodio della terza stagione del Bitcoin Italia Podcast è tutto ci avviciniamo alla pausa estiva tu dove andrai in vacanza quest'anno già lo sai io faccio la vacanza da papà degli anni 90 quindi vado in un femmini hotel della riviera Romagnola ma che bello sei veramente fortunatissimo mi dispiace di non poter venire con te sai perché sai dove vado io in vacanza no non lo so davvero non lo sai non lo so e allora te lo dico io vado to the moon ciao ciao ciao